Siamo oltre i supplementari e l'apidario il Presidente del Veneto Luca Zai è in merito all'iter in corso per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova. Lo ha detto chiaramente al Cavallino, località balneare veneziana, l'inaugurazione del nuovo punto sanitario di primo intervento. Io penso che i mesi siano passati a sufficienza. Abbiamo firmato un accordo per la cessione delle aree a dicembre. Sono passati già di fatto sette mesi e dico che a questo punto si sono passati anche i tempi supplementari per tenere un termine calcistico. Per cui siamo nell'ambito di chiedere formalmente al Comune se ci dà le aree e se no per noi si chiude tutto. Il nuovo punto di primo intervento costato 838 mila euro e un vero e proprio presidio sanitario. Manca la volontà di garantire al turista che qui c'è la vacanza sicura, che qui se ti ammali, ti accade qualcosa, ti fai un graffio, ti rompi un dito, c'è qualcuno che ti cura e ti rimette ovviamente a nuovo. Il futuro della sanità è una sanità che si evolve sempre di più, che deospedalizza, fa star poco i pazienti in ospedale e adotta tecniche innovative e sempre più all'avanguardia nella cura e nella diagnostica, ovviamente valorizzando i professionisti. Zaia è intervenuto anche sulla decisione UNESCO per le colline del Prosecco. Intanto dico che il dossier passa e va al prossimo anno con delle prescrizioni, con delle osservazioni, quindi noi siamo assolutamente felici di questo risultato. Peraltro alla richiesta di andare al voto da parte di chi ci giocava contro, ovvero la Spagna, non capiamo perché, forse perché hanno le bollicine spagnole che dà il Cava, e alla loro richiesta, convinti del fatto che su 21 voti noi non avessimo la maggioranza, al voto invece abbiamo avuto la maggioranza perché abbiamo avuto 12 voti, 3 contrari gli altri astenuti. Per cui hanno dovuto rimettersi tutte le carte nella borsa e tornassene a casa in silenzio. Il dossier del Prosecco è stato riconosciuto come unico e tornerà il prossimo anno a Bacu per la sua valutazione e l'eventuale approvazione.